Salve a tutti e bentrovati. I listini europei recuperano dai minimi e chiudono con poca variazione rispetto a ieri, nel giorno delle quattro streghe, scadenze tecniche per i future e opzioni. Sullo scenario mondiale, il presidente degli Stati Uniti Biden e quello cinese hanno discusso sulla crisi geopolitica e Putin si è rivolto alla nazione. L'indice milanese Fuzzimib, dopo un trend discendente con un minimo sui 23.900, inverte la china dal primo pomeriggio riportandosi sulla parità in area 24.100. Analogo come vediamo l'andamento dell'indice DAX che sul finale registra un meno 0,15% circa, mentre gli indici di oltreatlantico si stanno muovendo a diverse velocità. Il Dow Jones flette dello 0,15% sotto i 34.400. Il tecnologico Nasdaq ha toccato il punto percentuale in area 13.760. Atlantia è il miglior titolo del paniere milanese, dopo l'ok della Corte dei Conti alla vendita di autostrade per l'Italia. Segue Inuit che tocca i massimi dal 10 gennaio sfiorando i 10 euro per azione. Prosegue il buon periodo di STM, titolo che in questo caso è sui massimi di un mese. Mediobanca e Nexi salgono di oltre il 2%. La flessione peggiore è invece quella di Iveco che scende di quasi 3 punti. Ieri il titolo era tra i 5 migliori di giornata. Stesso discorso per Eni, che ieri era tra i migliori mentre oggi si avvicina al meno 3. Meno pesanti i cali degli altri titoli. Azimut supera il meno 1. A2A e Unicredit chiudono ampiamente entro questa percentuale. Tornà negativo il cambio euro-dollaro. Nel primo pomeriggio erano stati sfiorati gli 1-10 e soglia sotto cui però il grafico non è mai sceso visto il parziale recupero successivo. Molto più ampio è il calo dell'euro sterlina, che rispetto a ieri sera perde oltre mezzo punto percentuale. Leggerà variazione positiva invece per l'euro yen. Ed ora l'analisi grafica sul DAX a cura di Filippo Giannini. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Filippo Giannini di tradingfacile.eu. Con lui daremo uno sguardo al DAX in una giornata particolare per i mercati. Cosa c'è di interessante? Sì, innanzitutto, ciao Rossana, ben trovata. Sì, oggi facciamo il punto della situazione sul DAX in una giornata che è quella appunto delle scadenze tecniche, cosiddetta giornata delle quattro streghe, contratto future del DAX in scadenza alle ore 13, ma già osserviamo volumi molto maggiori sul contratto di giugno. Quindi è questo che chiaramente ci fa da riferimento. Per quanto riguarda la dinamica tecnica, abbiamo visto nelle ultime sessioni un recupero decisamente interessante per quanto riguarda il DAX. Il mercato nella giornata appunto di mercoledì scorso, con il break di quota 14.000 punti, ha completato questo modello di accumulazione, modello chiamato cap with handle, letteralmente appunto tazza con il manico. E quindi da qui ci aspettiamo, insomma, ecco che il mercato, in virtù di una dinamica che è ora costruttiva, più costruttiva sicuramente rispetto a qualche sessione fa, ci aspettiamo che possiamo assistere ad un ulteriore recupero. Detto questo, però, come detto, oggi è una giornata particolare, quindi a mio avviso avremo sicuramente delle difficoltà a vedere il mercato tornare perlomeno nella giornata di oggi a quota 14.500 punti, anzi, io mi aspetto, insomma, ecco che con il rollover sul nuovo contratto il mercato possa ulteriormente accentuare la correzione. Occhio però perché in virtù appunto del miglioramento del quadro tecnico che abbiamo visto nelle ultime sessioni, potremmo secondo me assistere a delle occasioni lato long nelle prossime sessioni. Ci sono dei livelli interessanti da monitorare, dei livelli che secondo me verranno difesi appunto in ottica long. sicuramente il primo è a quota 14.000 punti e poi passando per tutti questi punti intermedi rispetto al range dell'11 marzo scorso. Ritengo che sia questo il range da monitorare con particolare attenzione, ovvero il range che va da 14.000 punti a quota 13.300, appunto, ovvero il range dell'11 marzo scorso. Qui su questi livelli intermedi, secondo me, vale la pena osservare la dinamica di prezzo perché in caso di nuova forza, quindi quota 13.800, 13.500 e 13.300, questi livelli vanno monitorati appunto in ottica di acquisto a basso rischio in questo momento, complice anche il fatto che se andiamo a monitorare la volatilità implicita V-Stokes, qui il rollover sul nuovo contratto già completato da qualche sessione, siamo tornati sotto una soglia secondo me appunto interessante che è quella dei 32 punti e quindi è chiaro che se dovessimo appunto osservare un mercato appunto che continua a correggere senza vedere però di contro un marcato aumento del V-Stokes, questo potrebbe appunto favorire delle operazioni appunto lato long. chiaro che se queste discese, come stiamo vedendo oggi, dovessero essere accompagnate invece di contro da una salita decisa del V-Stokes, a quel punto attenzione perché dovremo probabilmente prepararci ad una nuova fase appunto di debolezza soprattutto se il mercato dovesse mollare quota 13.300 punti, a quel punto a mio avviso possibile un test anche di livelli inferiori a quota 13.000 punti. perfetto Filippo, io ti ringrazio per la panoramica e le informazioni con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana grazie a te Rossana, arrivederci a tutti ringrazio Filippo e Rossana, grazie a voi per averci seguito e continuate a rimanere aggiornate sui nostri contenuti sul canale YouTube di Traderlink, sulla nostra app e Traderlink Cloud non mi resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento a lunedì arrivederci grazie a tutti grazie a tutti